Il Consiglio dei Ministri, dove è stato dato la via libera al disegno di legge per contrastare la violenza sulle donne, ci sono tutte le Ministre del Governo Draghi a presentarlo. Allora facciamoci in diretta, sentiamo il Ministro dell'Interno. Contare un poco di un provvedimento che ci ha visto tutte lavorare insieme, perché l'obiettivo era quello di rendere più sicura la vita di tante donne che purtroppo in questo anno sono state vittime di femminicidio. Pensiamo che solo quest'anno abbiamo avuto 109 donne morte e quindi c'era un'esigenza davvero di intervenire come prevenzione di fatti così gravi. Allora abbiamo valutato insieme e approvato oggi, e quindi ringraziamo il Presidente del Consiglio che è qui presente anche per il supporto che ci ha dato nell'approvazione di questo provvedimento. Abbiamo rafforzato alcune misure relative per esempio all'ammonimento del questore e soprattutto abbiamo inserito questa tipologia di reato tra quelle che è la violenza domestica. quindi sono stati inseriti quello che è i reati di violenza privata grave, aggravata, danneggiamento, soprattutto laddove siamo in presenza di minori, quindi sono state inserite nell'ambito della fattispecie giuridica che è violenza domestica. Su questo aspetto abbiamo ulteriormente lavorato nel senso che abbiamo previsto l'estensione delle misure di prevenzione personali applicabili dall'autorità giudiziaria ai soggetti indenziati di delitti di violenza privata e così anche nei casi in cui sono stati già ammoniti dal questore e si sono resi purtroppo ancora una volta, hanno adottato ancora una volta comportamenti violenti con minacce gravi, aggravate. Abbiamo operato anche in termini di adottando alcuni strumenti tipo il braccialetto elettronico che potrà essere ovviamente adottato da parte dell'autorità giudiziaria e sicuramente nei casi in cui ci si provveda anche non da parte direttamente senza querela direttamente con la procedibilità d'ufficio. Dunque abbiamo sentito le parole del ministro dell'interno Lamorgese che sta spiegando il provvedimento che è stato approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.